Sicuramente abbiamo cercato di fare il massimo perché il primo tempo abbiamo sofferto, ha giocato più nella metà campo nostra, il Palermo ha creato sicuramente di più, non eravamo convinti negli ultimi metri e poi abbiamo retto bene fino all'ultimo minuto del primo tempo. Nel secondo tempo siamo stati in partita fin quando non abbiamo subito un gol sul calcio piazzato e lì sicuramente mi sono arrabbiato che di fatto è chiusa la partita perché se andiamo a vedere l'inizio del secondo tempo qualche buona opportunità per pareggiare l'avevamo avuta e sicuramente è stato un approccio diverso rispetto al primo che è stato un pochettino rinunciatario. Da questo punto di vista, anche se devo dire non lo analizza nessuno, però non so come non si possa dare un rigore su Meneza, questo è chiaro, però ripeto quando perdi 3-0 non si considera neanche questo episodio. Andiamo avanti, è un dispiacere enorme perché è arrivato poi da un altro errore, è arrivato il gol del 3-0 e quindi c'è molta rabbia da questo punto di vista. Sì, ma come ho detto io più che altro siamo stati un po' timorosi nel primo tempo perché abbiamo rischiato qualcosa, però all'inizio del secondo tempo la reazione c'è stata, abbiamo avuto alcune opportunità che non sono andate in rete per niente, però c'è stato di fatto nell'azione sul calcio piazzato, non si può prendere gol, c'è stata qualche disantazione non solo probabilmente di Dorval, però a parte che facciamo a volte dei falli inutili e poi scaturiscono azioni pericolose, però non credo che se non erano fiduciosi non c'era neanche la reazione che c'è stata, perché nel secondo tempo abbiamo iniziato con un piglio diverso rispetto al primo tempo, purtroppo abbiamo aspettato uno schiaffo per reagire, questo certamente non va bene perché l'approccio doveva essere lo stesso che quello che abbiamo fatto all'inizio del secondo tempo già nel primo. Io per ora ho in mente di parlare della partita e parlare dei presenti, non possiamo parlare degli assenti, ogni partita ne abbiamo tanti di assenti. Sicuramente, l'ho detto in conferenza ieri, lo sappiamo che la qualità del Palermo è tanta, perché quando una squadra ha giocatori anche come ha fatto il Gorranocchia, lo può fare un giocatore che si vede che ha giocato in A, si vede che ha fatto campionati importanti negli ultimi tempi, qualità ce ne hanno, alternative ce ne hanno tante, e quindi tanto di cappello all'organico del Palermo che è stato costruito per vincere. Però, ripeto, noi abbiamo lottato fino a un certo punto, fino al gol del 2-0 siamo stati in partita contro una squadra che qualitativamente sicuramente finora si è dimostrata superiore al Bari, i numeri sono quelli. Dobbiamo capire, dobbiamo pensare di fare partita su partita, non dobbiamo fare troppi voli in avanti, ma bisogna guardare un attimino la realtà, la realtà è che abbiamo fatto due sconfitte inaspettate, perché se ci poteva stare quella di oggi, quella con la Reggiana, sicuramente difficile da digerire per come è arrivata, per come non abbiamo giocato, quindi queste cadute dobbiamo evitarle di fare, perché come abbiamo detto, insomma per un periodo le prestazioni c'erano e quello che dobbiamo fare è cercare di reagire bene con la qualità, con giocare a calcio, giocare per vincere, non aspettare gli avversari. Se uno in un momento di difficoltà dice che non è in discussione, allora è presuntoso, mi dite e poi scrivete Marino è presuntoso perché non si rende conto che in questo momento non si ama, se dico che sono in discussione si è arreso, quindi è inutile fare queste domande. Fatela a chi di dovere. Sì, ma io che sto dicendo, ieri me l'ha fatta sempre lei la stessa domanda prima della conferenza stampa finale, adesso continua a farla, anziché chiede a me o a me lo chiede al direttore, che abbiamo avuto tanti problemi, stiamo cercando di risolverli, i problemi sono stati tanti, di qualsiasi tipo, a noi non piace parlare di quello che succede, degli assenti, di tutte queste cose qua, noi abbiamo avuto mille problemi per cercare di riuscire a trovare una quadratura che c'eravamo riusciti, queste ultime due partite chiaramente ci hanno peranalizzato, però il percorso di crescita c'era stato, c'era stato e l'avete notato, l'avete detto, insomma, quello che c'è stato. In questo momento sicuramente lasciamo a desiderare un attimino perché non abbiamo espresso quello che magari abbiamo fatto l'ultimo mese prima di queste due partite. Grazie. Grazie.